Per effettuare il processo di verifica del proprio account su pokestars.it è necessario inviarci una copia fronte e retro di un documento d'identità. Potete scegliere tra carta d'identità, patente, passaporto. Puoi scannerizzare i tuoi documenti o caricarli sul computer dalla tua macchina fotografica e mandarle via e-mail a verification-pokestars.it oppure caricarli direttamente dalla lobby di pokestars.it andando su guida, contatto supporto, carica documenti. Puoi anche mandare un fax all'attenzione di pokestars.it verification team al numero 800-765-37782 mettendo la tua user ID su tutte le pagine. Grazie a tutti!